I recenti rumors riguardanti la rottura tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono rivelati fondati. È stata la stessa Perla, vincitrice del Grande Fratello, a confermare la fine della relazione attraverso una serie di storie su Instagram. Questa notizia ha sicuramente sorpreso molti, me compreso, poiché non seguivo da tempo le vicende della coppia. Mi sono chiesto quale fosse il motivo alla base di questa decisione e ho notato che molti altri si stavano ponendo la stessa domanda utilizzando l'hashtag cancelletto Perletti. Perla ha spiegato la sua scelta con delle dichiarazioni sincere e piene di emozione. Ha raccontato di come lei e Mirko abbiano preso la decisione di interrompere il loro percorso insieme per il bene e la serenità di entrambi. Nonostante la fine della relazione, Perla ha sottolineato che il legame tra loro rimarrà sempre forte, fatto di rispetto e di affetto. È evidente che l'amore che hanno vissuto è stato intenso, e che entrambi hanno lottato per mantenerlo vivo, ma alla fine hanno compreso che è raggiunto il momento di seguire strade diverse. La giovane ha sottolineato che la decisione di separarsi è stata presa dopo lunghe riflessioni e non influenzata da opinioni esterne. Il fatto che la porta di casa sua resterà sempre aperta per Mirko dimostra il rispetto e la stima reciproci che continuano a caratterizzare la loro relazione, nonostante la fine della storia d'amore. Perla ha anche affrontato il tema dei gossip e delle critiche, sottolineando che ogni individuo ha diritto alla propria privacy e che non dovrebbero essere insinuate illazioni sulla sua vita privata. La ragazza ha condiviso con il pubblico l'angoscia e la difficoltà che sta vivendo in questo momento, e ha ammesso di non aver previsto di attraversare un periodo così complicato. Ha rivelato di essere sotto pressione da diversi mesi, una scelta che ha preso consapevolmente ma che si è rivelata pesante da sopportare. Nonostante tutto, Perla ha ringraziato il pubblico per il supporto ricevuto e ha sottolineato l'importanza di vivere la propria quotidianità in tranquillità, senza essere oggetto di giudizio maldicenze. In conclusione, la fine della relazione tra Perla Batiero e Mirko Brunetti ha suscitato molte reazioni e ha portato la giovane a riflettere su se stessa e sulle sue scelte. È evidente che quest'ultimo periodo è stato molto impegnativo per lei, ma ha dimostrato di essere determinata a superare le difficoltà e a prestare attenzione al proprio benessere emotivo. Nonostante tutto, la giovane ha espresso fiducia nel futuro e ha ringraziato il pubblico per il sostegno ricevuto.